Violenti scontri sono scoppiati a Jenin in seguito a un'operazione israeliana nella città Cisgiordana che ha provocato la morte di almeno otto palestinesi. Lo Stato ebraico ha impiegato anche dei droni, mentre le forze di terra hanno fatto irruzione in un campo profughi, secondo il primo ministro palestinese, con l'obiettivo di distruggerlo. Secondo Israele il campo di Jenin era diventato un punto d'appoggio utile per il lancio di attacchi da parte dei palestinesi. L'operazione è stata descritta come la più imponente dell'ultimo anno. L'esercito israeliano ha fatto sapere che probabilmente l'intervento si protrarrà per diversi giorni.